cari amiche e cari amici ben ritrovati a storie di vino e viticoltori chi vi parla come sempre francesco fabbretti e oggi ho il piacere di avere come mia ospite carolina gatti buongiorno carolina buongiorno allora carolina la prima domanda tanto per sciogliere un po il ghiaccio diciamo è una domanda molto semplice tu sei una persona che come dire oltre a fare la viticoltrice hai proprio tutto un sistema di allevamento e di agricoltura nella sua tenuta nei suoi possedimenti possedimenti in termine grosso però diciamo prendiamolo per buono come sei arrivata a scegliere questa forma di vita allora beh io nasco già in questa forma di vita nel senso che sono figlia di agricoltori e la mia azienda agricola di adesso è un po lo specchio di quello che è stata l'azienda agricola di mio papà e di mia mamma la scelta però è stata fatta alla veneranda età di 35 anni la scelta proprio di prendere in mano tutto però diciamo che prima di fare questa scelta qua c'è stata una abbastanza lunga gavetta con mio papà che sapendo che io sono uno spirito un po non conforme mi voleva testare giustamente perché lui sa che quando io prendo una decisione quella è però voleva testarmi quindi la mia scelta è stata maturata praticamente da un rifiuto verso tutto quello che era il mondo del vino che io ho vissuto fino ai 28 anni quando tu parli di mondo del vino che avevi vissuto ne parli da un punto di vista di consumatrice o anche da un punto di vista come dire produttivo nel senso che in qualche modo avevi lavorato avevi avuto modo di lavorare in ambienti del mondo del vino che non ti piacevano allora io faccio la scuola enologica e ci ho messo un po più degli anni canonici a finirla perché mi insegnavano un'agricoltura che non era quella che io vedevo a casa dei miei genitori fondamentalmente poi ho fatto dopo il diploma un'esperienza in Friuli Venezia Giulia in un'azienda e tieni conto che io all'epoca avevo la sfrontatezza di voler diventare la Giacomo Takis in gonnella del mondo del vino andando a lavorare in Friuli le mie ali sono state tarpate perché mi sono scontrata con quello che io definisco uno dei miei maestri però non andavamo d'accordo che è stato Giorgio Grai e lì io praticamente mi scontravo con questa persona che era veramente un grande all'epoca del mondo del vino poi da lì ho avuto altre esperienze però c'era sempre questa cosa che non mi riconoscevo in quello che facevo l'ultima mia parte del mondo del vino sono finita a fare tra virgolette la cantiniera l'operaia definisci come vuoi in una cantina sociale del mio paese e lì veramente una mattina mi sono svegliata e ho detto io questa vita qua non voglio farla mai più al che sono andata a casa ho detto mio papà ascolta non ce la faccio più non sento che è una roba che io voglio fare quindi o vediamo di andare d'accordo io e te o io prendo la mia strada insomma tieni conto che mio papà faceva vino avevamo all'epoca la classica vendita in damigiana vendita di sfuso perché era il mercato che seguiva lui e da lì e mio papà ha detto ma come facciamo e gli ho detto guarda io intanto inizio a lavorare con te e poi vediamo dopo otto anni gli ho detto un giorno senti io sono stufa di andare a far carte dove devi firmare tu ci vuole la delga ci vuole cosa cioè o vai a fartele tu no no io voglio stare in vigneto non mi interessa questa roba qua gli ho detto boh allora cambiamo partita iva vado a farle io ma con la firma mia e lui lì mi ha detto ok fai e da là quindi è partita tutta la nuova avventura dell'azienda con i vini in bottiglia e che avevamo già iniziato con due etichette col suo nome poi ho implementato le altre e da lì è partita un po' la mia storia mia del mio modo di fare vino della mia visione del mondo del vino che mi ha reso felice carolina io non credo di scoprire l'acqua calda se dico che la tua visione del mondo del vino è una visione critica nei confronti di quella che potremmo definire la cosiddetta visione convenzionale figlia proprio di un mondo che in qualche modo è un mondo plastico se così possiamo definirlo infatti mi facevi proprio degli esempi al di là del voler entrare nel merito di quello che c'è dentro una bottiglia tutto il discorso relativo al packaging relativo all'immagine quindi siccome sono pensieri i pesanti tuoi vorrei che se ti va ce li potessi rioffrire anche a vantaggio di chi ci sta seguendo allora io parto dal presupposto che ci sono più visioni del mondo del vino no ognuno ha la sua ognuno sceglie quella più consona al suo essere a me questa roba un po' palestrata un po' pompata un po' finta ok non non mi piaceva cioè perché io devo usare delle cose per far finta di migliorare il mio vino quando di partenza ho un'uva che non è al top ho un'annata che non è al top perché io devo taroccare devo anche fare uno sforzo da parte mia che non mi piace per per creare un qualcosa che che non mi va perché me lo richiede il mercato ma il mercato lo puoi portare dalla tua parte no abbiamo parlato di viticoltura fino adesso però vogliamo proprio raccontare un po' la tua azienda agricola a 360 gradi cosa se io vengo a trovarti cosa trovo al di là dei vigneti beh allora trovi me spettinata molte volte sporca trovi me che sto facendo delle cose trovi quella che io chiamo l'azienda dei puffi perché è tutto piccolo però tu trovi un organismo agricolo che fosse per me sarebbe ancora più grande nel senso che io ho degli animali beh mia mamma segue tutto quello che riguarda che ha tre pulcini lei prende l'uovo lo mette a covo si svezza il pulcino poi le nostre galline cioè le sue galline vanno per i campi lei le riconosce sa io da parte mia ho un asino perché a me piacciono moltissimo gli asini ho delle caprette nane tibetane che non fanno latte ma fanno compagnia all'asino e a me piacciono come animale scusa ma l'asino tu lo come dire lo mantieni come tra virgolette compagno di vita un po come fanno luca e matteo garberoglio di carussin sì sì io innamorata degli asini sono andata dalla bruna ci siamo confrontate ecco non lo sapevo eh sì sì e io avevo già il mio asino però il mio asino era un asino che arrivava da un circo era stato maltrattato quindi con la bruna gli ho chiesto ma ascolta sto qua mi morde fa così fa colì e lei giustamente mi ha spiegato un po di cose e poi tu troverai un'azienda agricola che ha due orti seguiti anche quelli da mia mamma primo perché le piace poi perché io fisicamente non avrei tempo ti arrivi ti trovi immerso nelle bellussere e purtroppo ti troverai anche in un luogo dove c'è un'orrenda zona industriale attorno se viene adesso ti troverai una terra violentata dal passaggio di un metano dotto hanno tagliato i vigneti per lungo ti troverai in un ambiente che mi dicono perché io ci vivo l'ho scelto che in cui si sta bene insomma in cui c'è un'energia in cui si fanno cose in cui tutto sommato sembra che si stia bene che siamo felici ecco ma queste galline arrazzolano il terreno ma poi vengono anche mangiate oppure stando lì no beh le galline mia mamma sì ah ecco poi io allevo e quella ogni anno si chiama rosina detta bistecca una vacca da carne perché rosina detta bistecca sì sì lei arriva con le sue carte i suoi numeri le sue robe però io la battezzo rosina detta bistecca i miei nipoti che hanno 6 e 4 anni sanno che quella mucca là adesso c'è poi un domani chissà come si trasforma in una bistecca tornando a questo punto all'uva perché poi siamo qui per assaggiare dei vini e per parlare di te come viticoltrice come sai se hai visto qualche episodio di questo vlog io sono una persona particolarmente attenta alle tematiche ecologiche nella produzione del vino come dico sempre rifiuto il concetto di naturalità perché è un concetto usato ciucciato masticato usato in 3000 modi e tra l'altro non è niente di nuovo già a fine 1700 russo parlava della teoria del buon selvaggio ovvero di una teoria della regressione dello stato naturale come la possibilità di vivere nel migliore dei mondi possibili e da quel momento in poi tutti quelli che si sono occupati tre secoli dopo di marketing sanno bene che quell'ambito semantico in cui noi inseriamo il concetto di naturalità in cui inseriamo il concetto di il sapore delle buone cose antiche oppure un altro concetto come potrebbe essere quello le ricette della nonna per dire tutte queste cose qua in realtà fanno molta presa perché sono delle cosiddette sono i cosiddetti claim forti hanno una grande capacità di aggancio di hooking nei confronti di chi viene esposto a questi tipi di claim però sono claim è pubblicità per me l'atto agricolo è un atto politico ovvero che deve investire una polis che sia una IGT che sia una doc o quello che sia sia e su questo come dire punto di vista vorrei conoscere un po la tua impressione allora io parto sempre dicendo che quando finirà la terra potremo avere tutti i soldi del mondo ma non mangeremo ok quando sparirà l'ultima ape moriremo ok quindi da parte mia c'è una voglia in primis e poi anche un dovere di preservare quello che è il mio territorio allora io ho quasi 50 anni ok e se guardo a casa mia il mio territorio è completamente cambiato dove prima c'erano dei campi che a me da piccola sembravano immensi ci sono delle fabbriche dove prima c'erano siepi non ci sono più siepi quindi vuol dire biodiversità inesistente annullata sparita dove c'erano dei sistemi di allevamento ce ne sono altri dove c'era una agroecologia chiamiamola così fatta di un mondo con più sfaccettature ci troviamo a monocoltura è bene perché ha portato ricchezza cioè inutile girarci attorno insomma mio papà si è comprato il primo trattore nel 67 dopo l'alluvione e se l'è pagato andando a tirare la ghiaia nelle stradine bianche poi si è arricchito si è fatto la sua piccola cantina come lui tanti altri quindi da una parte va bene dall'altra mi viene da dire ma ha senso essere un criceto nella ruota dove tu hai terra però deve averne sempre di più devi lavorare h24 perché se no non ci stai dietro non hai tempo di fermarti a mangiare a mezzogiorno perché ti devi mangiare un panino di corsa a me sta roba qua mi sembra cioè o sono io l'ufo o vivo in un mondo di ufo una scelta politica e ecologica in primis dovrebbe partire dalla terra e dovrebbe essere una cosa che ogni agricoltore dovrebbe avere il suo orto le sue galline dovrebbe procurarsi la sua carne le sue verdure dovrebbe avere la capacità magari di barattare ok un prodotto con un altro il vino con la farina se non hai farina ok e invece a me sembra tutta una rincorsa una rincorsa a tutto sto mondo che ti chiede sempre di più sempre di correre sempre di creare ma cosa cosa crei cosa crei se porti in cantina sociale cosa crei la tua fatica sì e tu mi dirai io a fine anno 100.000 euro puliti capito ma se poi non c'è il tempo di usarli questi 100.000 euro quindi cioè mi vien da dire ma perché tutto tutto sto surblos no all'interno di questo ritorno diciamo all'essenziale che hai lasciato intendere molto chiaramente io direi di inserire anche un discorso che a te so che sta particolarmente a cuore lo hai già toccato ed è il discorso delle bellossere vabbè le bellossere sono fantastiche spiegaci prima di tutto che cos'è la bellossera allora la bellossera tu devi immagini io lo spiego sempre alla gente tu devi immaginarti un palo con quattro alberi perché c'hai le quattro piante di vite attorno al palo una volta era o un gelso o un salice perché la legatura si faceva col salice e il gelso perché c'era la bachicoltura poi è diventato un palo di legno e poi è diventato un palo di cemento perché durava in eterno insomma hai questo cordone alto due metri che poi prosegue per altri quattro e praticamente tutti i tralci vanno verso l'altro perché c'è tutto un sistema di fili che che tiene su tutto questo impianto è un impianto che sta scomparendo ma perché andrebbe preservato intanto per quello che riguarda tutto come si dice il patrimonio architettonico rurale che ripeto sta scomparendo perché adesso tutti meccanizzati quindi tutto deve essere comodo deve essere comodo girare con l'atomizzatore recupero deve essere comoda la vendemietrice deve essere comodo rimorchio dove butti l'uva deve essere tutto comodo ecco la bello serie invece fai tutto a mano cioè io le uniche lavorazioni che faccio è se attacco un attrezzo al trattore che riesco a passare sotto la parte più bassa dei due metri e i trattamenti poi vabbè abbiamo un rimorchio dove buttiamo l'uva e lo tiri col trattore però voglio dire tantissime operazioni le fai a mano è chiaro che devi saperla gestire io ho avuto un professore all'università con cui ho fatto una tesi proprio sulla riduzione della carica di gemme del raboso in questo caso qua in potatura quindi avevamo fatto delle prove e io le mie bellussere le poto facendo quattro archetti con quattro massimo cinque gemme utili quando c'era mio papà gli archetti erano magari cinque con cinque gemme ok però più o meno era lì la maniera di potare insomma noi non abbiamo mai fatto potature come io vedo in qualche posto in giro poi mi informo e capisco che è gente che ha campi in affitto quindi devono produrre non interessa come l'uva io penso che a casa mia che posso permettermi di fare tra virgolette quello che voglio non riesco a girare quattro archetti nel giro 3 non muore nessuno da questo argomento me ne viene in mente un altro perché mentre tu parlavi io stavo facendo questa riflessione cioè tu puoi permetterti di fare questo ragionamento questi ragionamenti che hai fatto finora per un paio di motivi il primo che è un ragionamento sul quale mi vedi completamente d'accordo ovvero il fatto che tu hai sposato una stile di vita che non è il mio nel senso che io non non vivo in campagna però comunque credo di non allontanarmi tanto dalla verità se dico che sia io che te abbiamo uno stile di vita nel quale ci frega poco niente del fatto di avere un pacco di soldi in tasca e andarceli spendere e io non ce la faccio fisicamente il secondo è che deriva un po anche dal tuo stile di vita siccome hai uno stile di vita permettimi di dire a misura d'uomo ti puoi anche permettere una viticoltura a misura d'uomo quindi in buona sostanza possiamo dire che tu hai scelto o meglio ti trovi bene ad essere di dimensioni contenute di poter vivere tutte le tue vigne in prima persona avendo un rapporto quasi simbiotico con le tue vigne e con tutto il resto che la tua azienda agricola produce sei d'accordo su questa affermazione sì perché secondo me dal mio punto di vista è poi ognuno libero però dal mio punto di vista è molto importante sapere che ne so dove spunta la peronospora per primo allora io so che avendo del merlot merlot devo stare sempre con le orecchie alte no so che avendo nove varietà di viti piantate ok ho nove momenti di raccolta diversi che se avessi solo prosecco io diventerei cretina a vendemmiare un mese il prosecco che il primo lo vende il mio crudo l'ultimo lo vende il mio stramaturo e quindi avrei bisogno di una squadra che mi viene ad aiutare di molta più gente di molte più cose avrei molto più stress invece come sono strutturata io riesco a fare le cose riesco a tenere tra virgolette sott'occhio tutto riesco a supervisionare qualcuno la chiama maniera di controllo però è quello che io riesco a fare poi è chiaro che mi aiutano delle persone però il la cadenza del lavoro il rispetto di alcune tempistiche che ti faccio un esempio noi iniziamo a vendemmiare alle otto della mattina otto un quarto con un nostro collaboratore che ha sempre che urla che va qua non c'è pronto il carro non è pronto niente se non arrivo io e voi dormite boh alle undici e mezza io porto a casa il carro d'uva che sia pieno mezzo uno stracolmo non importa il portacasa loro vanno in cantina si fanno chilo spritzchi si beve il bicchiere due patatine due cose fa l'aperitivo vanno a casa a mangiare l'una e mezza si riparte poi lì sono quasi sempre loro che mi dicono guarda che dobbiamo finire sto filare qua che non pensi che poi domani mattina per quattro pali boh anche lì poi io scarico l'uva loro arrivano cantina sprizzettino due chiacchiere due cose e questo è il nostro tra virgolette tran tran poi c'è la barzelletta poi c'è il caffè poi c'è la cena in fine vendemmia la cena in fine potatura e è essere famiglia non è avere tra virgolette scusa la parola gli operai quindi quello che voglio dirti io è che tu cioè il tuo atto agricolo deve comprendere dall'uovo al gallo nel piatto quindi da chi ti aiuta che poi ti supporta a chi ti vende il vino però mi rendo conto che dall'altra parte c'è chi mi dice tu sei un ufo la tua viticoltura non farà mai carriera sbagli tutto cioè io adesso la risposta che mi viene in mente ma chi se ne frega appunto cioè per dirti devo spiantare una parte di vigneto dove è passato il metanodotto ripianterò bellussi sono tutti che mi guardano con gli occhi fuori dalla testa ma cosa vai a piantare bellussi pianterai filare ma perché io devo andare a poi cambiare tutta la struttura della cantina che è indirizzata verso una via per far che un piacere a te secondo te il mondo artigianale ed ecologico dovrebbe o non dovrebbe al di là del produrre vino in scienza e coscienza intestarsi una rivoluzione pacifica perché di rivoluzioni se ne possono fare di 3.000 tipi gandhi fece una rivoluzione pacifica ad esempio dovrebbe o non dovrebbe intestarsi una rivoluzione pacifica dal basso allora dovrebbe secondo me prima di far la rivoluzione prendere una posizione nel senso ci sono tante aziende agricole che si definiscono ecologiche naturali non interventiste però sai a me piace quando vado alle fiere andare vabbè salutare colleghi conoscere vedere e mi piace anche chiedere no perché lì mi rendo conto se tu nella tua azienda ci sei o no cioè io ho sto problema qua tu e vedere come rispondono quando parli di problema intendi problema vitivinicolo qualsiasi problema cioè ma tu con la pronospora hai usato l'olio di arancio oppure hai provato la bentonite ma che bentonite che che zeolite che solfato di rame ma che marca usi ma ma va meglio va peggio cioè sai queste domande tra colleghi no le mani dei miei colleghi per capire se tu in azienda ci sei perché se tu in azienda ci sei ok se tu non ci sei il tuo atto rivoluzionario il tuo prendere posizione qual è cioè io una posizione quando mi ha imbocciato il fu proseguo col fondo che adesso è bolle bandite l'ho presa cioè me l'ha imbocciato benissimo io non sono più nella doc proseguo quando loro mettono no massa ci dà altre sei bottiglie io lo faccia ma cosa cioè perché devo darti altre sei bottiglie ripagare tutto con il dubbio che poi magari o me lo passi perché ti ho rotto le scatole o ancora me lo ribocci perché cioè confesso che io scusa se apro una parentesi ci ho messo un po a capire che cosa volesse dire bolle bandite quando sai quando quando ho letto bandite mi è venuto da pensare ai grandi banditi che poi in realtà pure i banditi sono in realtà banditi nel senso però io volevo scrivere bolle bandite dalla doc non potevo e ho messo bolle bandite ok però voglio dire io la mia posizione l'ho presa e l'ho presa in un momento in cui non dovevo prendere quella posizione forse avrei dovuto cavalcare un po quest'onda e farmi conoscere di più a questo punto però tu come dire mi hai in qualche modo invitato e io mi intrufolo nel portone che tu mi apri ti dico bene allora visto che tu ti definisci io non ho motivi per non crederci una agricoltrice una viticoltrice ma anche agricoltrice ecologica e artigianale a questo punto raccontiamo un po che cosa fa una agricoltrice ecologica e artigianale chiaramente non entriamo nel dettaglio di tutto quello che fai ma per grosse linee prima in vigna e poi in cantina allora beh inizia a svegliarsi alle cinque e mezza della mattina ecco e già capisco che non potrei fare il viticoltore perché si deve fare comunque 30 chilometri di macchina per arrivare in azienda perché io convivo con il mio moroso nelle colline di conegliano perché lui c'ha casa lì e poi c'ho l'azienda in pianura a ponte di piave quindi poi arriva in azienda fa colazione fa due chiacchiere con la mamma e poi parte la giornata quindi come prima cosa l'asino ti chiama perché ha fame e allora vai a fare l'asino le capre poi devi mangiare cani gati è alle 8 la tua giornata inizia e può essere in questo periodo potare se non poti vai a spolonare però spolonare ci vai alle 6 della mattina se fa caldo perché sennò alle 9 e mezza sei morta poi ci sono i trattamenti quindi prendi il trattore carichi l'acqua monti sul trattore metti sul fatto di rame zolfo e parti a fare i trattamenti tu lo sai che sul trattamenti però noi siamo molto curiosi cosa usi in vigna io in vigna uso allora la bella poltiglia bordolese uso aspetta io lo so cos'è la poltiglia bordolese spiega che cos'è a chi ci sta seguendo la poltiglia bordolese googolate e vi vedete la spiegazione perché sennò ci vogliono 6 ore uso sennò degli idrossidi di rame uso la zeolite uso i preparati biodinamici perché io lavoro anche in biodinamica uso dei microrganismi per il terreno quindi io ogni giorno ne ho da fare una parte di di roba che non mi piace fare è tutta la parte burocratica che qualche volta mi fa impazzire e diciamo tra un trattamento una potatura faccia un fare il fieno per le bestie perché poi devo fare il fieno per le bestie che lì vabbè sega mio fratello poi io faccio tutto il resto e poi arriva le 8 di sera che sei cotto morto finito quindi sì io faccio un po di tutto insomma so usare una motosega so usare la facciatrice so usare un trattore ho tutti i vari patentini corsi menate perché ci sono dentro insomma infatti guarda io ti volevo interrompere qualche secondo fa ma poi ho detto ma lasciamola parlare perché è talmente tanto avvincente quello che ci racconta e anzi se mi permetti guarda non sono parole di circostanza io ti ringrazio e ti dico perché ti ringrazio perché in generale quando si parla con un viticoltore ecologico artigianale non che ci sia un male ma come dire a volte si ha un po l'impressione che attacchino la spina l'interruttore sull'on che partano con sempre grosso modo le stesse spiegazioni credo anche perché per essere ecologici bisogna grosso modo far tutti le stesse cose non è che ci si può inventare chissà tanto però quando tu chiedi ma tu che sei un viticoltore ecologico cosa fai allora tratto solo con rame e zolfo in pochissima quantità lascio il terreno inerbito no no ferma allora tratti con rame e zolfo in pochissima quantità nelle annate che te lo permettono l'anno scorso io devo ancora fare il conto del rame perché mi viene da vomitare a sapere quanto ne ho buttato ok stessa cosa lascio inerbito lasci inerbito dove ok da me se lasci inerbito c'è la pera non la spora che ti arriva nei capelli dopo due secondi ok faccio il fieno sì come lo fai il fieno fa il primo taglio che allora hai fatto solo due trattamenti fai il terzo taglio però è pieno di rame alle capre fa male all'asino anche alla vacca anche cioè ci sono delle operazioni ma in effetti sono operazioni che sono anche dittate dal fatto che tu in realtà hai creato un ecosistema però non nascondiamoci lo sappiamo che quando un viticoltore ecologico parla dice sempre rame zolfo in ridottissima quantità se è biodinamico preparato 500 preparato poi gli domandi due robe non ti sanno rispondere la maggior parte allora dico siamo sempre lì no ritorniamo al discorso quale quale rivoluzione ci vogliamo intestare io ci fai ma io ti ringrazio perché tu con questo crei uno squarcio nel cosiddetto velo del tempio ma guarda io non so che squarci credo io so che ho dei colleghi che vengono perché magari sentono queste storie fantasmagoriche della gatti che la strega gatti l'entità gatti poi arrivano in azienda io li porto in campo perché no no vieni con me e io c'ho e l'altro giorno che è passato un collega mi fa oh mi fa io sono stra felice di essere venuto di vedere cosa fai e di vedere esattamente che quello che dici fai cioè vedere la tua terra vedere che la biodinamica che usi la usi seriamente sì ok c'è sti problemi qua però guarda come hai potato no no poti bene sì sì il carico di gemme cioè per me è soddisfazione ma non che lui mi fa i complimenti è soddisfazione avere lo specchio che quello che sto facendo lo sto facendo meglio non bene perché arrivare alla perfezione no però sto facendo meglio ho capito perfettamente senti adesso arriva la domanda consecutiva l'approfondimento consecutivo ovvero in cantina cosa fai allora io sono sempre stata molto istintiva ok per decidere il momento della vendemmia io non faccio analisi vado per il campo assaggio dico ma sì ma oggi vendemmiamo il cabernet ok no no aspettiamo due giorni intanto facciamo il merlot che è meglio ok poi l'uva arriva in cantina pigio di raspo io uso solforosa uso 8 10 grammi in pigiatura vabbè dai 8 10 grammi di metabisolvino no no io lo dico perché io ho provato a fare i vini senza solforosa ho sempre fatto aceto non sta a chiedermi perché anche sterilizzando facendo avendo tutto mio ho sempre fatto aceto ogni volta che faccio un travaso prima di fare il travaso faccio l'analisi e vedo se devo aggiungere si metabisolfito su forosa per tenere la libera sempre verso i 12 come acidità io non ho grossi problemi perché avendo dei terreni con i carbonati di calcio magnesio il caranto ho sempre vini abbastanza salini e sapidi anche se ho l'acidità bassa ok ok poi vabbè faccio l'analisi anche per vedere la volatile perché a me non non fa che la volatile vada a manetta però ti devo dire una cosa a manetta non piace neanche a me ma se c'è una punta di volatile a me non dispiace sì dipende in che vino ok e poi vabbè io c'ho le c'ho le manzini veramente di 50 anni fa io l'unica roba tecnologica che ho è una pressa polmone della della toffola e la pigia di raspatrice della cme presa 10 anni fa io il resto c'ho tutta roba del 15 18 c'ho le vasche in cemento alcune vetrificate alcune no adesso non dico ma da però le vasche in cemento sì ma sì a me quando mi dico ma è l'anfora no io l'anfora dei poveri c'ho la vasca in cemento cioè l'anfora di che perché va di moda l'anfora a tutti a far vini in anfora no ho una vasca di acciaio che uso il meno possibile perché mi fa precipitare i tartrati e segreti non ne ho cioè io ti dico che da quando mio amoroso mi aiuta in cantina perché anche lui è neologo ha fatto neologia ho vini più puliti rispetto a una volta però quello è l'unico segreto poi ti dirò ho avuto il periodo in cui mio papà purtroppo si era ammalato quindi io devo stare dietro mio papà che abbiamo fatto due travasi quindi l'ultimo travaso metti fino a ottobre per me novembre non abbiamo più toccato il vino fino a giugno quasi perché abbiamo travasato per preparare le masse per poi fare l'imbottigliamento io avevo i vini che non puzzavano con feccia ho capito non so se il buon dio mi ha dato una mano non so se sono stata brava io non lo so cosa è successo io l'ho detto beh forse qualche volta non intervenire e lasciare che si prenda il suo tempo va bene anche al vino no capisco beh a questo punto sai che facciamo dimmi beviamo vi assaggiamo allora i vini li abbiamo versati stiamo per procedere all'assaggio prima di procedere all'assaggio ovviamente lasciamo che tu ce li spieghi partendo dal bolle bandite annata allora questo è vendemmia 2010 vendemmia 2010 il motivo è semplice con il covid magazzino si è un attimo bloccato e io sto dando fuoco alle polveri delle annate vecchie vabbè mi sento veramente un super fortunato si si beh in vendita quindi vi consiglio di prenderlo finché ce n'è perché è veramente buono scusa no toglimi la curiosità parliamo sempre di un bolle bandite che costa intorno ai 16 euro ti ho detto 2010 non sono rincoglioni ma hai detto 2010 si no 2020 sono rincoglioni no infatti adesso mio cervello stava dicendo ma 2010 sei scema 2010 perché ne avrò 20 bottiglie in croce di 2010 però questo 2020 ah hai anche 2010 in cantina io ho del prosecco col fondo degli altri vini purtroppo no perché ho avuto seri problemi di tappo però del bolle bandite che ha tappo corona dio se l'ho dato per il tappo corona e ho tutte le annate dalla 2008 quindi il mio sogno è fare una mega degustazione verticale dal 2008 fino all'ultima annata insomma allora facciamo una cosa comincia a raccontarcelo e poi procediamo ad assaggiarlo allora bolle bandite viene chiamato comunemente glera ok io non lo chiamo mai glera io ho le varie fiere degustazioni che faccio dico sempre che il mio è un prosecco clone balbi acino tondo che è quello di pianura l'acino lungo e collina terreno argilloso con appunto prevalenza di carbonati calcio magnesio praticamente il terreno alluvionale del fiume piave ok lo vendemmio alla terza terza quarta di settembre prima fermentazione del cemento seconda fermentazione con gli zuccheri residui fa nove dieci mesi in vasca di cemento e poi in teoria faceva un anno di affinamento in bottiglia e poi lo vendevo adesso il tutto si è allungato per cause covid insomma blocco dei mercati diciamola così nel momento del covid e basta allora io nel frattempo ti dico che gli ho dato un'annusatina gli ho dato un'assaggiatina un'assaggiata più che un'assaggiatina e i primi due richiami che forse in maniera fotografica mi sono venuti alla mente sono stati il richiamo di boulangerie quindi baguette francese quindi non la panificazione nostra tradizionale del no ho capito ma la baguette quindi pane e anche burro sì è tanto burroso e l'altra immagine fotografica mi è venuta e l'immagine di qualcosa di cui tu hai parlato cioè il fieno sì allora vabbè poi sui sentori ognuno come memoria ai suoi richiami il più bel complimento è quando qualcuno l'assaggia mi dice sa di vino sa di vino e io gli dico ok brava gatti e mi do la pacca nella spalla poi ripeto questo ha più profumi cioè ha profumi più spettinati che pettinati ok però la sua complessità si difende io un bel feedback te lo darei non tanto dicendo di sa di vino perché sai sa di vino ma che vuol dire sa di vino io ti dico che lo trovo molto gastronomico soprattutto perché c'è questo tocco di impersistenza c'è questo tocco umami che è veramente molto piacevole molto gastronomico e poi riscontro indubbiamente dal punto di vista palatale la sabidità a cui tu hai fatto cenno perché è evidentissima mi piace questa scelta di avere queste bolle non particolarmente incisive se vogliamo beh sai che essendo un frizzante arriva a due atmosfere mezza e quindi ci sta benissimo poi se lo lasci lì col passare degli anni la bolla cambia e diventa sempre più fine da anche una cremosità e poi vabbè io faccio vini per mangiare stavo per dirti questo infatti io ti volevo dire proprio questo ovvero non proprio questo però ti volevo dire una cosa che è molto simile non ti dico che questo vino sa di vino perché ripeto può voler dire tanto e voler dire niente ti dico che questa bevanda chiamiamola così è una di quelle bevande che è fatta come dici tu in maniera pulita ma che un sorso tira l'altro ah sì io ho dei clienti che mi dicono io vado al bar lì all'enoteca lì come aperitivo mi faccio una boccia di bolle io gli dico bravo accidenti una boccia sì sì beh guarda che io mi amoroso una bottiglia in due è il minimo vabbè che quell'altro è un marcantone di due metri però sì ma non per dire che siamo alcolizzati nel senso che mangiando te lo godi questo è veramente un vino che se non stai attento si ti piombi la bottiglia in effetti e che è caldo allora cioè qui qui avriamo proprio un argomento sul quale potremmo discutere per ore io ti dico che questo vino preferisco berlo a questa temperatura piuttosto che due tre gradi in meno io in cantina lo do a temperatura ambiente anche il 15 di agosto logico non è a questa temperatura qua il 15 di agosto perché è un po più fresco in cantina però non lo do mai da frigo no e tra l'altro sì è vero che gustativamente la precedenza c'era la sapidità però anche l'acidità è una bella acidità comunque l'acidità è 5 e mezzo da analisi e quindi ma se tu tieni conto che in un prosecco normale siamo sul 6 6 e 2 6 e 4 vabbè però lasciamo lasciamo c'è il terreno che supportano lasciamo che chi vuole il prosecco normale il prosecco normale anche perché scusa per pura curiosità quante bottiglie produce di bolle bandite all'anno 10.000 per italia e tutto il mondo quindi quando è finito no nel senso io credo che bolle bandite finisca in uno schiocco di vita eh sì sì non abbiamo problemi di aver magazzini colmi insomma il bolle bandite se non ricordo male sullo scaffale di un'enoteca sta intorno ai 16 euro sì 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 grossomodo stiamo su quella lì no perché di solito mi butto a cercare di indovinare il prezzo sì sì però nel tuo caso io so già quali sono i prezzi dei tuoi vini per cui mi sembra stupido far finta di provare a indovinare questa è una cosa da bambini dai no no siamo su quel prezzo lì insomma arriviamo al raboso prima di cederti la parola faccio una premessa tu hai portato un raboso annata 2019 ed è un raboso che ha fatto bottiglia questo sì è un raboso molto diverso dai precedenti perché questo ha degli anni in bottiglia e credo che tu l'abbia portato perché noi c'eravamo già sentiti ti avevo detto che io il raboso appena uscito con un anno di bottiglia solo ho difficoltà a comprenderlo ora siccome si può avere difficoltà a comprendere un vino esattamente come si può avere difficoltà a comprendere un cibo ti faccio un esempio mia madre è sarta uno degli alimenti per cui anzi due alimenti per cui i sardi vanno matti il primo sono subillone d'accula subilloni vuol dire il passerotto sono passerotti catturati con le reti spellati appesi ad un non infilati però appesi dalle gambette lessati senza eviscerazione senza niente e vengono mangiati e si dice che per apprezzare veramente chi apprezza veramente subillone d'accula deve lasciare soltanto il becco è una cosa che a me ripugna in una maniera incredibile eppure come dire io ho radici in quella terra oppure un altro piatto che sempre io ho difficoltà a farvelo andare giù è sugallo ovvero il caglio meglio detto in realtà è lo stomachino dell'agnellino da latte che viene che prima succhia il latte poi viene ucciso seduta stante così che ha lo stomaco ripieno di latte questo stomaco ripieno di latte viene fatto invecchiare e fa il formaggio e si crea una sorta di formaggio dopodiché prima di essere servito si mette in padella si riscalda e quindi quel formaggio diventa una crema si taglia si incide lo stomaco e all'interno c'è questa crema di formaggio anche con ti dico anche un po schifosina perché ci sono ancora anche i peletti che l'agnellino succhiando è un odore di formaggio portato all'ennesima potenza ma appesta proprio l'ho assaggiato io non riesco proprio neanche quello quindi tutta questa premessa per dire che siamo umani il gusto è soggettivo e quindi di conseguenza ci può stare che una persona con tutte le buone volontà non riesca a entrare nella stessa frequenza d'onda di un vino per questo motivo ti dico raccontaci come lo produci e soprattutto raccontaci la tua esperienza di raboso quando parliamo di raboso dannata non raboso invecchiato perché tu con il raboso hai un rapporto molto forte e quindi mi sembra giusto che tu ci dia tutto il quadro a te la parola allora raboso era il vino il mosto che mio papà mi faceva bere da piccola perché era l'ultimo l'ultima uva vendemmiata mi dava questo bicchiere con sto vino che era acido proprio limonoso era una roba che ti faceva venire il pelo d'oca però profumatissimo buono e io da piccola impazzivo cioè quando mi diceva domani vendemmiamo raboso quindi da là è nata la mia il mio innamoramento no per il raboso già il mosto era acido sì 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 allora noi vendemmiamo l'uva matura io vendemmio a dai dai primi di novembre al 15 di novembre se l'annata permette e faccio fare anche un leggero appassimento ok però noi dieci di te abbiamo sempre 15 16 17 uva matura parlo e tieni conto che non fa la malolattica tu devi pensare che il raboso è selvatico hanno provato a farlo rabosino dolce hanno provato a farlo in bianco hanno provato a farlo rosato e spumante frizzante invecchiato ma la notte io ho detto sai cosa io lo faccio di annata cioè vendemmio sta in botte lo imbottiglio a luglio a dicembre lo vendo gli unici due che lo bevevamo eravamo io e bucci ok salutiamo christian bucci christian bucci proprietario della l'escav de piran un distributore italiano che distribuisce vini decisamente degni di nota e quindi cioè io e lui tutti felici il resto del mondo un po meno quindi non è mai stato diciamo un vino che andava a manetta bisognava sempre spingerlo sempre spiegare quindi l'atto agricolo la rivoluzione anche fare cultura no quando spieghi le cose arriva il covid si blocca tutto e questo ho avuto la fortuna di farsi prima un anno in bottiglia poi sai la gente dice eh ma me lo ricordo acido eh quando si è un po iniziato a muovere il tutto con le degustazioni con le cose quindi fine anno scorso inizio di quest'anno ecco sì e tutti ma senti che roba ma senti che buono ma c'ha stitannini vellutati ma non è più acido ma cosa gli hai fatto no non ho fatto niente sta fermo e quindi adesso lo propongo con un affinamento in bottiglia che gli dà la la giusta importanza allora mi permetto di dire una cosa poi rilascio la parola a te cioè chi ti ha detto non è più acido è più bugiardo di pinocchio l'acidità la mantiene sì infatti a me non piace perché per me è troppo poco acido ah ecco cioè lo bevo è mio figlio sono contenta si sta comportando bene però a me piace addirittura dalla botte cioè dalla vasca di cemento che appena finito la fermentazione che io l'assaggio e mia mamma mi guarda mi dice te si fora perché mi vede che faccio così che dico ah senti che prova eh e mia mamma mi guarda ma sembra che stai mangiando un limone stracido è così mia mamma è astemia quindi lei non sa ok e per me l'essenza del raboso è questa cioè è un vino che in pochi capiscono in pochi apprezzano però chi lo apprezza è come un diamante per tutta la vita eh sì eh sì e a me a me ti ripeto fa impazzire ma addirittura io vado ad assaggiare l'uva e è acida cioè io ti posso dire forse il raboso non è per me un diamante per tutta la vita però il bolle bandite è un ottimo diamante per tutta la vita ma guarda che raboso ripeto può piacere come no io a chi è un po' restio gli dico sempre prenditi una bottiglia d'estate io faccio così c'è il giro il tour con mio papà avevamo il tacito accordo che ultimi tot chilometri di tappa blocca tutto tv poi all'epoca dei pantani festa due fette di salame e il raboso eh messo mezz'ora prima in frigo quindi fresco non freddo cavoli c'è che birra no no certo tu te lo bevi con una grigliata di pesce o anche di carne tu te lo bevi con il pesce crudo d'estate cioè morte sua perché ha questa acidità che ti pulisce no guarda hai detto una cosa che è sacrosanta che io non ho mai in tutti questi episodi precedenti ritenuto opportuno dire ma che in realtà andrebbe detta cioè è vero noi qui beviamo il vino cerchiamo di scomporlo cerchiamo di analizzare quali sono le sue parti dure le sue parti morbide quali sono i sentori che percepiamo ma poi il vino alla fine tu lo devi abbinare tra l'altro ti dirò qui ti sfrugulio perché è vero che come dici tu sì sì anche un sushi ci potrebbe star bene con questo raboso questo qui che ho assaggiato io con sushi ce lo metterei però siccome io sono convinto che come dire così come nella tua azienda c'è tutto un microsistema che è uniforme in cui tutto è conseguenza del precedente ed è a sua volta input per il conseguente la stessa cosa per me è quando si parla di abbinamenti perché io sono convinto che se a un certo punto i viticoltori hanno fatto selezione e hanno scelto di coltivare quelle uve rispetto ad altre è perché nel frattempo proprio in quel periodo c'era una cucina che andava meglio con quelle uve rispetto che altre perché chi produceva vino 200 anni fa mica si poneva il problema di metterlo in bottiglia e di andarla a commercializzare a parte quelli di bordeaux che lo facevano dal 1600 chi produceva vino lo produceva per autoconsumo e quindi doveva trovare che il suo vino che produceva stesse bene con quello che mangiava è chiaro ma se tu pensi che vabbè a Valdobbiade ne aveva la tradizione del prosecco come vino della festa i matrimoni nasceva il figlio da noi è Raboso cioè tu non avevi un matrimonio negli anni 50 dove non fosse aperta una bottiglia di Raboso o quando nasceva il figlio maschio dove non si aprisse una bottiglia di Raboso chiaro era Raboso di famiglia certo però il nonno aveva sempre la sua riserva personale anche quei tempi doveva le bottiglie migliori per le occasioni speciali solo una cosa ci siamo un po persi sulla domanda che ti volevo fare e la domanda che ti volevo fare relativamente a Raboso è benissimo d'accordo col sushi ci sta bene ma un piatto veleto da abbinare al Raboso oca in unto oca in unto come si fa l'oca in unto la fa la mia amica Manuela all'agriturismo Mondragon a Tarzo praticamente viene riposta nei barattoli l'oca con il suo grasso e quindi è un piatto opulento grasso pieno ok e cosa c'è di meglio di un Raboso per grassare assolutamente penso di sì ok o i fagioli con la cotica radici fasioi e scorzetti cioè radicchi fagioli e i ciccioli del maiale quindi sti piatti invernali quando l'inverno era inverno non come gli inverni di adesso scusa giusto per curiosità ma l'oca in unto e quando si mangia si riscalda o rimane proprio si preleva da questi barattoli si preleva dal barattolo e si si scalda e poi va bene la fa in pezzettoni poi viene tagliata dopo l'oca in unto adesso andiamo al terzo vino che io sono molto curioso ad assaggiare perché confesso che è un vino che non ho mai bevuto di te quindi ripongo tantissime aspettative perché è un verduzzo vinificato secco se non ho capito male e credo anche macerato perché dal colore insomma non mi sembra proprio una non mi sembra una fermentazione a freddo allora il canaia è appunto verduzzo scusa ma che ti è girato in mente di chiamare un vino canaia beh io ho anche un vino che si si chiama ratatouille che è il mix di tutti i bianchi vinificati assieme sì no io ho fantasia un po' dialettale canaia te lo spiego perché il verduzzo trevigiano è un'uva canaglia nel senso che è molto sensibile all'oidio tu rischi di fare l'ultimo trattamento prima della vendemmia poi magari due giorni prima di vendemmiare ti becca l'oidio quindi dalla uva canaia uva canaglia questo qua è un vino fatto con viti che hanno dagli 80 ai 90 anni di un vigneto che molto probabilmente quest'anno spianterò perché il passaggio del metanodotto ma fatto implodere il vigneto si è tutto abbassato poi ci sono dei pali di legno abbiamo provato a vedere se riuscivamo a mettere dei pali di cemento però non si riesce a tirar sulla vita insomma è un casino in più c'è della flavescenza su una parte di pinot perché in questa parte di vigneto anche del pinot e toccherà spiantarlo nascerà qualcos'altro magari qualche altra sperimentazione quindi questa canaglia diciamo che questa bottiglia qua è uno degli ultimi canti del cigno eh sì è sempre nata a 20 anche questa e lui viene vinificato fine settembre primi di ottobre eh sempre nel cemento frequenti remontaggi per estrarre il colore poi lo lascio lì quando con le bucce lo assaggio e più o meno di solito dopo 21-28 giorni dipende dall'annata annata fredda 28 giorni annata calda 20-21 svino perché sennò abbiamo provato a fare una macerazione più lunga prende l'amaro troppo l'amaro del vinacciolo anche se il vinacciolo è maturo scusa ho giusto una curiosità perché nel frattempo io l'ho già usata assaggiato ma tu il verusso lo accogli leggermente surmaturo no di solito lo raccolgo maturo mai surmaturo perché ha una buccia fine e se tu lo lasci surmaturare marcisce ah beh certo non lo so allora non riesco a capire qual è il richiamo gustativo che mi ricorda un po un tratto di oserei dire quasi caramella mu sì ce l'ha c'ha anche l'albicocca matura matura eh sì stavo per dire io albicocca disidratata sì candito di cedro sicuramente anche un tocco di pompelmo rosa che come colore non c'entra niente no però però tu tieni conto che se non lo macero come profumi praticamente quasi nulli pochissimi e quindi è nato sempre da esperimenti che io faccio perché ogni anno faccio degli esperimenti con dell'uva e un anno abbiamo provato a lasciare là e abbiamo visto che dopo un mese buono ma amaro e l'amaro dicevamo ma se il vinacciolo era maturo perché io poi vado in campo mastico e sento la maturazione vinacciolo e allora abbiamo provato ad accorciare portare a 20 giorni l'anno dopo proviamo 25 proviamo 28 insomma ci abbiamo fatto il range in base alla nata e assaggiando due volte al giorno mattina e sera per vedere com'è però anche questo non è che ha segreti pulcinella dietro insomma no no certo poi secondo me fa tanto tantissimo il lavoro che fai nella vigna quindi i microorganismi preparati biodinamici guarda ti faccio ti faccio una domanda che secondo me potrebbe essere più chiara di qualsiasi spiegazione che possa dare anche per te vale il concetto che quello che fai in cantina è una diretta conseguenza di quello che hai fatto in vigna è chiaro io cerco di intervenire il meno possibile senti sempre ritornando un attimo sul verduzzo ci sono due richiami gustativi che volevo condividere con te il primo è allora io lo definisco osso bruciato e per spiegarti cosa alludo uso un paragone che può sembrare non piacevole ma in realtà serve soltanto perché so che se io dicessi conchiglia combusta la gente ma quanta gente sta lì a mettere una fiamma ossidrica su una conchiglia per sentire che odore ha allora bisogna usare dei paragoni che magari non sono raffinatissimi ma che rendono immediatamente l'idea l'osso combusto è altro non è che quell'odore che si sprigiona quando uno va dal dentista il dentista trapana il dente e c'è quell'odore di bruciato dell'osso ora se riuscite a scindere l'azione in sede della trapanatura del dente che non è un piacere neanche per me dall'odore che percepite ecco focalizzatevi su quell'odore è insomma è quello di l'osso combusto e poi un'altra cosa che ti volevo dire perché tu hai tenuto a sottolineare la sapidità che viene regalato ai tuoi vigneti sono d'accordo ma questo è altissimo anche in acidità comunque siamo sempre su cinque e mezzo anche qui e allora spiegami da dove la tira fuori tu dovresti assaggiare che io non ho portato il cabernet perché non è ancora pronto il cabernet c'ha sta botta di affumicato che sembra proprio che io non so mentre lo imbuttigliavo facevo la brace non so come dirti oppure che l'hai affinato in barrique tostatissime no non ho barrique no non lo so ma era ho due tonno in cui ho messo una prova di raboso del 20 per vedere cosa può succedere no questa parte di osso bruciato di affumicato di mineralità è data appunto da questi pezzi di carbonati calcio che tu trovi in vigna che nella parte di vigneto dove ho cabernet tocca i pino bianco verduzzo e merlot è più presente che nella parte dove ho il prosecco raboso e i vigneti davanti a casa ho capito tu proprio cammini e vedi sti pezzi non te ne ho portato neanche uno però di solito quando vieni in cantina o alle fiere c'è lì o dietro per far capire la gente la gente mi dice ma i tartufi perché la conformazione è quella io dico se avessi tartufi sarei un miliardaria certo quindi è data proprio da dalla mineralità dal terreno ok capisco senti carolina siamo alle domande conclusive e le domande conclusive le faccio premettere sono sempre le stesse da una curiosità e la curiosità è tu pratichi delle forme di ospitalità in cantina non credo non alludo al fatto del dormire in cantina ma in generale cioè fai accoglienza ecco mettiamo così accoglienza mi sembra un po più calzante io accolgo chiunque passa perché un bicchiere di vino c'è sempre non sono strutturata per grandi gruppi perché accolgo la gente in un pezzo che era la vecchia cantinetta dove è iniziato tutto mio papà dove c'è un tavolo e si sta in sei persone ok certo quindi non ho la struttura per i grandi gruppi cosiddetti detto tramite non c'è neanche la voglia dei grandi gruppi non mi sembri persona da ospitare grande no nella mia idea di un futuro se riuscirò mi piacerebbe mettere a posto il pezzo di casa vecchia dove ho il fienile la stalla dove ci sono delle cose e allora lì fare una sala degustazione che possa permettere un'accoglienza migliore ma con l'intento di avere anche una cucina tra virgolette semiprofessionale dove posso chiamare degli amici cuochi dove posso fare delle degustazioni dove posso accogliere le persone in maniera migliore poi per un'accoglienza a 360 gradi io dovrei avere una persona che segua quella cosa lì e tra l'altro inutile che io ti dica che quando io ti chiedo se tu fai accoglienza per me l'accoglienza comunque è sempre e indiscutibilmente a pagamento te lo dico perché io sono allora io la faccio gratis un po perché devo ancora capire a livello burocratico e anni che chiedo come riuscire a mettere dentro tutte queste cose però poi penso sia anche tra virgolette un gesto bello nei confronti di uno che viene a trovarmi ok che sa dove capita il più delle volte e poi starà a lui comprare una bottiglia due bottiglie neanche una bottiglia il problema è proprio questo è per questo che io dico in realtà l'accoglienza andrebbe fatta pagare lo so poi arriva la repressione frodi mi dice ma tutte queste bottiglie in autoconsumo viva dio un po le bevo un po le do il problema è che purtroppo ormai la realtà del cosiddetto turismo enogastronomico si sta strutturando in maniera tale che la gente ormai veramente vive la visita alla cantina come un momento turistico però blocco ti blocco perché non mi interessa quella parte lì cioè o tu vieni perché ti interessa veramente sapere cosa faccio quindi sei disposto venire a sporcarti le scarpe in vigneto logico che se piove o ha piovuto giorno prima non ti porto nella vigna però devi essere disposto tra virgolette a romperti un po le balle se invece tu pensi di venire a mangiare pane salame pago non pago la bottiglia le cose dico guarda in collina è pieno di agriturismi che fanno questo servizio con il prosecco con la fascetta doc con il prosecco che magari apprezzi di più perché più quello che tu trovi in giro e ti dico guarda vai vai lì come quando arriva qualcuno dice ma i tuoi vini costano guarda lì c'è la cantina sociale trovi tutto quello che vuoi ai prezzi che vuoi mi sembra chiarissimo ora detto che appunto tu hai messo dei paletti molto chiari le due domande conclusive sono la prima quindi alla luce di tutto questo perché una persona dovrebbe venire a trovarti in cantina viene da me per curiosità e poi per vedere pacchito il mio asino fighissimo è quella la parte più importante dell'azienda no allora vicino a me c'è una bellissima realtà che è maurizio donadi che ha i vignetti in val belluna come casara frontin e poi a casa belfi a 10 chilometri da me se no c'è tutta la parte della collina uno potrebbe andare a trovare la manuela tessari al mondragon dove lei alleva le ocche ha una roba come mille ocche fa tutti i prodotti a base d'oca nel suo agriturismo all'agriturismo aperto mi pare venerdì il sabato sera la domenica forse a pranzo e lì ha il prosciutto d'oca l'oca in unto tutti i piatti a base d'oca altri amici da andare a trovare de martin a sospirolo una realtà piccolissima però adriano e giulia due belle persone se sei appassionato di fiori c'è la zianina flower farm che è partita con i tulipani adesso ha narcisi rose giacinti fa tutte queste cose di fiori quindi una bella realtà anche loro due ragazze brave e il marito di una la giulia alessandro ha fatto la scuola agraria anche lui ha fatto analogia anche lui quindi insomma ci sono delle belle realtà da scoprire e come zona ci sono dei fermenti anche diversi ottimo e l'ultima domanda che mi è rimasta è invece fermo restando che ci hai fatto capire più di una volta che tu non sei una persona che come dire ama spingere i suoi vini e metterli ad ogni costo nelle mani di un acquirente detto questo però ovviamente poniamo che un acquirente di vini entri in un'enoteca oppure si sieda al tavolo di un ristorante e trovi in carta un vino prodotto da te immaginati per un istante sommelier di quel ristorante o di quell'enoteca e dimmi quali sono le chiavi motivazionali che useresti per convincerlo a comprare i vini di questa certa carolina gatti allora faccio finta di far l'oste sì guarda ho scoperto sta tipa che è completamente sballinata non gli daresti due lire perché se la vedi ti sembra proprio fuori dal mondo però fa di quei vini o con un carattere con un'identità proprio della zona del piave e soprattutto non conformi quindi se vuoi rimanere stupito in bene poi dipende dal tuo gusto forse anche in male tu assaggia questi vini e poi mi dici prima di concludere carolina mi sono ricordato che non ti ho chiesto i prezzi del raboso e del verdulso macerato canaia credo che il raboso se non sbaglio mi sembra di averlo visto online sempre sui 15 euro ci siamo forse 18 18 sui 15 il cabernet sì forse sì forse sì hai ragione no ho confuso la bottiglia il cabernet il gatros il gatros allora sì mi sono confuso la bottiglia il canaia 22 21 22 e detto questo non mi rimane molto altro da aggiungere se non ringraziare carolina gatti per la sua pazienza e per essere venuta a prendere parte a questo progetto storie di vino e viticoltori grazie mille carolina grazie a te è stata una fantastica esperienza e per quanto mi riguarda non mi rimane che darvi appuntamento alla settimana prossima sempre con storie di vini e viticoltori arrivederci ciao